Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Io, come al solito, sono Simone e su questo canale parliamo di come imparare le lingue straniere da autodidatta. Oggi, però, non parliamo di questo, parliamo di quelli che sono un pochino i progetti in corso della direzione che prenderà questo canale e, in generale, dei miei progetti online. Ho già annunciato un po' di tempo fa sul podcast, questo è l'episodio, che ho di fatto lasciato il lavoro per dedicarmi alla mia attività online, al coaching, al podcast, al canale YouTube. Il podcast, in realtà, al momento rimane il mio progetto principale, ha anche un seguito che è circa 10-15 volte quello del canale YouTube. Però ho pensato comunque di condividere questo video anche sul canale, perché ho pensato magari c'è qualcuno che segue il canale ma che non segue il podcast. Quindi volevo raccontarvi un pochino quello che succederà, ma semplicemente con il canale succederà che voglio continuare a produrre un video a settimana come ho fatto fino ad oggi. Come già anticipato, per quanto riguarda il podcast, invece, il prima possibile vorrei riuscire a raddoppiare i contenuti, quindi a iniziare a produrre due episodi alla settimana del podcast e un video sul canale YouTube, perché sono convinto, credo, spero, magari fatemelo sapere voi, che i consigli che condivido sul canale, che è molto più nello specifico relativo all'apprendimento delle lingue in generale, credo che questi consigli siano utili e un po' di gente mi iscrive e mi ha ringraziato per i vari consigli, quindi penso davvero che sia utile per chi voglia imparare un po' qualunque lingua, non soltanto l'italiano come è l'obiettivo, diciamo, un po' del podcast. Il canale ha un target un po' diverso, perché di fatto può aiutare chiunque a imparare qualunque lingua. Continuerò comunque al tempo stesso a lavorare come project manager, come ho fatto finora, la mia carriera intera è stata di fatto nell'ambito del project management, parlando tutte le varie lingue che parlo con i miei clienti. Continuerò anche a lavorare come project manager, però come freelancer, quindi è molto diverso e potrò appunto organizzare un pochino meglio il mio tempo e dare più spazio all'attività online. L'idea è nata molto semplicemente da, diciamo, questa passione per le lingue straniere che è cresciuta nel corso degli anni e è arrivata al punto dove dico, bene, questo è quello che voglio fare nella vita, questo è quello a cui vorrei dedicare gli anni a venire. Sono super contento, ovviamente, di aver trovato qualcosa che mi interessa così tanto e che mi dà ogni volta tantissima energia, perché davvero sono super contento quando mi devo mettere a registrare un video o quando mi devo mettere davanti al microfono a registrare un podcast. Mi hanno detto che nell'episodio in cui ne parlavo sul podcast non mi si poteva vedere perché è un podcast, ma si poteva percepire il sorriso, probabilmente, quindi sono davvero contento, volevo condividere questa cosa un pochino anche qui sul canale con voi. Ci saranno poi tutta una serie di cambiamenti che arriveranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in realtà che vanno anche al di là del semplice, diciamo, nuovo lavoro o nuova modalità lavorativa, ma magari ne parleremo in qualche altro video o nel podcast nelle prossime settimane. Finalmente avrò più tempo anche per cercare di migliorare in maniera sistematica la qualità dei contenuti e per davvero mettermi a pensare e a dire, va bene, Simone, come vogliamo sviluppare, come vogliamo andare avanti con il canale, con il podcast, con una cosa e con l'altra, perché secondo me molto spesso, troppo spesso, nel mondo del lavoro ci ritroviamo spesso a correre, correre, correre e non abbiamo il tempo di fermarci e pensare a quello che davvero vogliamo fare e ovviamente avendo un lavoro a tempo pieno per me era già una sfida abbastanza tosta riuscire a produrre tutti questi contenuti su base settimanale, oltre al lavoro di una persona a tempo pieno. Quindi davvero non vedo l'ora di sedermi, riflettere, pensare, pianificare un pochino per vedere come poterlo fare al meglio. In generale, ragazzi, se avete qualunque idea o qualunque richiesta, scrivetemi nei commenti perché io inizierò a fare una lista, ho già una lista in realtà, con tutte le richieste delle persone che mi seguono sul canale e sul podcast. Se c'è qualcosa che vi può interessare, che pensate possa essere utile, magari anche per altre persone, scrivetemi nei commenti e io potrò pensare magari di girare un video su argomenti specifici, magari andando in dettaglio su alcune cose relative all'apprendimento linguistico in generale, o magari anche di una lingua specifica, se è una delle lingue che parlo, perché poi è sempre un po' diversa. Sono due settimane di fatto adesso che sto lavorando in un co-working space qui a Graz, ed è fighissimo, ragazzi, perché ho già conosciuto una ragazza che lavora come video editor e mi ha dato un paio di consigli che non vedo l'ora di mettere in pratica. Ho conosciuto degli altri freelancer, quindi è davvero figo, c'è un sacco di energia, la gente che lavora in un co-working o in uno spazio del genere è anche molto aperta a chiacchierare, a fare networking e quindi è bello, è molto bello, c'è un sacco di energia, ho un sacco di energia, credo che si veda, che si percepisca e non vedo l'ora di metterla in pratica, ragazzi, quindi ci saranno tante sorprese, tante cose nuove, è molto bello e grazie, grazie a tutti in generale per chi mi segue da un po' di tempo, per chi magari è la prima volta in realtà che invece mi vede e che passa su questo canale, ciao, grazie anche a te. Come detto, quindi tante nuove sorprese, tanti progetti, tanti cambiamenti, grazie a tutti, ci tenevo a fare un pochino questo annuncio. Se è la prima volta che passate di qua, date un occhio a il primissimo video che ho fatto, così magari mi conoscete un pochino meglio dove parlo in qualche lingua, in un po' di lingue. Le lingue che parlavo al tempo, ce n'è qualcuna in più adesso, ne parleremo presto, parleremo presto anche di questo. Ciao, ciao a tutti ragazzi, grazie, grazie ancora siete i top!